A mio marito si richiede... si richiede di parlare in pubblico. Ho ricevuto! Forse dovrebbe cambiare lavoro. E se mio marito fosse il re? Mio marito si è rivolto a tutti. Inseritela in bocca. Scandite! Non si è rivolto a me. Posso curare vostro marito, ma mi occorre fiducia totale. Il vostro primo ricordo. Non sono qui per parlare di faccende personali! Perché siete qui, allora? Perché Balbetto è una nazione! Conoscete Barzellette? Il tempismo non è il mio forte. I vostri metodi sono non ortodossi e controversi. e si solleva a sua altezza reale. In effetti è divertente. Sì! Non temete. Siete singolare. Lo ritengo un complimento. La guerra con la Germania si farà. E ci occorrerà un re dietro il quale schierarci. Ha paura della sua ombra. La nazione crede che quando parlo, io parlo per lei. Ma non so parlare. Potete farcela. Non subiate la paura. Sarò il pazzo re Giorgio il balbuziente. Alzatevi! Non potete sedere lì! Alzatevi! Perché no? È una sedia. È la... È la sedia di Sant'Edoardo. È la... La gente ci ha inciso dei nomi. Ascoltatemi! Ascoltatemi! Perché dovrei sprecare tempo ad ascoltarvi? Perché io ho una voce! Sì, è così. La prova più grande deve ancora venire. Che cosa dice? Non lo so, ma... Sembra che lo dica piuttosto bene. Il primo discorso in tempo di guerra. Trasmesso alla nazione e al mondo. Questo grande momento di crisi. Comunque, Vader. Non so come ringraziarvi. Berti, siete un uomo coraggioso. Voglio essere una bravissima regina. Per un grandissimo re. Dimenticate il resto. E ditelo solo a me.